Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerisk, io sono Rob e oggi voglio parlare di un argomento che, sì, lo so già che cosa direte, cose come Ma ce n'era bisogno, non abbiamo bisogno di altri AK, Nikita fix the game, il The Sync, Pulled Registration, lo so, ma oggi non è quel giorno Quindi prima di iniziare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto Se volete invece seguirmi in live su Twitch mi troverete all'indirizzo twitch.tv slash dangerous Che lì mi potrete seguire in live scoprendo la mia programmazione e le cose che faccio in live Quindi, bando alle ciance, oggi parliamo di armi e di Escape from Tarkov, quindi iniziamo Allora, da sempre Escape from Tarkov è stato un simulatore, passatemi il termine, di armi Su cui è stato incostruito intorno un gioco, quindi oggi ci occuperemo di dare un'occhiata a quelle che sono le armi annunciate Tra spizziche e bocconi, ma che ancora non abbiamo visto, armi che sono sparite nel dimenticatoio del gioco e così via E quindi vediamo un pochino che cosa è successo, a che punto siamo e cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro di Tarkov Questo perché spesso vediamo magari dei filmati oppure delle foto su Twitter, Instagram e così via Ma non sappiamo mai esattamente che cosa sta succedendo, se non con qualche piccola soddisfazione Come l'arrivo del lanciagranate e così via Allora, partiamo dalle armi che sono state annunciate ma di cui ancora non si sa traccia Alcune le abbiamo viste addirittura nei primissimi video di rilascio le pre-alfa 0.0001 di Tarkov nel 2016 Comunque iniziamo appunto dalle armi che qua, questo sito si permette anche di mostrare comunque dove sono state segnalate queste armi Quindi alcune di queste armi sono state confermate in determinate sedi Quindi c'è lo status, il tipo di cartuccia che montano, un'immagine e il nome dell'arma Quindi a partire dal 9A91WSK94, un'arma da 9x39 Che comunque si configura in questo caso come un fucile da cecchino ovviamente per tutti gli amanti ed esperti di armi Storricione dell'ovvietà o anche delle eresie però mi baso su quello che vedo qui in questo momento Abbiamo quindi questo che tranquillamente potrebbe entrare nella famiglia dei fantastici Asval e compagnia Quindi sembra un'arma sicuramente sulla distanza Confermata con gli screenshot, non abbiamo il tipo di fonte ufficiale La Coney Badger è praticamente in questo caso abbiamo un fratello del MCX che attualmente è presente in gioco Qua lo possiamo vedere con un Magpul quindi sicuramente modificabile La Coney Badger è un dato che è molto amato nei videogiochi come anche su Call of Duty Conformato durante il Tolkien Tarko numero 4 quindi sono passati anni letteralmente Però è ancora un qualcosa di molto molto richiesto L'EK919K, un Uzi che fa molto dei narcos Presente in un report sul canale YouTube di Battlestate Games Questo Uzi, di cui attenzione ricordiamoci sono anche cose come degli screenshot del dual wielding Quindi la possibilità di tenere le pistole in due mani come un pazzo Chissà se sarà possibile anche con gli Uzi L'EK971, 973 e il 545A762 Quindi qualcosa che ha a che fare con le famiglie dell'EK Quindi abbiamo la classica o classico munizionamento 545 E la variante 762 amata da tutti gli amanti dei proiettili BP Abbiamo questa variante di AK confermata nel Tolkien Tarkov del blog numero 4 Insieme appunto a 9A91 Ah no scusate all'Uni Badger Tarkov comunque è stato ribadito più volte che dovrà essere una sorta di enorme biblioteca delle armi Ce ne saranno di tutti i tipi e saranno anche presenti quelle più esotiche La K12, 545, confermato ma non rivelato Quindi in realtà non sappiamo assolutamente niente La K15, un 7,62x39, confermato ma non rivelato Che vuol dire probabilmente che queste sono nelle idee Ma probabilmente sono state pushate molto più in là La K308 che monta 7,62x51 NATO Quindi abbiamo un munizionamento leggermente diverso Confermato all'audio podcast russo di Battlestate Games E anche su Instagram a quanto pare la K308 Questo ad esempio io non ne sapevo assolutamente nulla La KTR3 che monta un 5,45x39 Alla sua variante 7,62 è stata confermata su Instagram Quindi abbiamo comunque delle cose che potete andare anche voi a visitare L'Alexander Arms, .50, il Beowulf Che mi ricorda tantissimo ma tipo troppo l'M16 A meno che non sia questo, è un altro nome, io non lo so Monta .50 Beowulf Confermato su Reddit addirittura, ok L'M17, mai vista quest'arma qua, mi ricorda molto un'arma che è presente su Call of Duty 5,45x39, 9x39 E' realmente un fucile d'assalto soppresso Cioè con soppressore di suono Con la soppressata, ok? Confermato su Instagram AN-94, oh mio dio, questo è stato il fucile mio amato su Call of Duty Modern Warfare L'ho amato da morire 5,45x39 confermato su Instagram Questo ovviamente dovrà arrivare anche perché, vabbè, è uno dei fucili più amati in generale Il Benelli M4, 12x70 confermato su Reddit Che entra a far parte della famiglia dei fucili a pompa inutilizzati praticamente Il Bushmaster ACR, già dal nome immagino i meme che potranno uscire fuori Bushmaster ACR 5,56x45 nato, 7,62x300 AC Blackout 4,50xBushmaster Quindi abbiamo praticamente quest'arma per ogni tipo di variante desiderabile Confermata durante il devblog numero 4 Restare che durante questo devblog numero 4 ci siamo proprio sbizzarriti CZ Brand 2 5,56x45 nato e 7,62x Confermata su Reddit Un'arma che è molto strano Mi ricorda lo SCAR per il tipo di culo E per il corpo è un po' strana quest'arma Proprio non so cosa sia DSR-1 che monta i 308 Winchester 300 Winchester Magnum E 338 Lapua Ecco qua un fucile da cecchino Lapua Lapua o Lapua Fucile da cecchino che farà la felicità di molti Qua montato ovviamente con il B-Pod Che ce l'ha in realtà anche se non sbaglio l'SV-198 Ma non possiamo usarlo ancora Quindi è giusto un'estetica Confermata su Russian Podcast con BSG Quindi questo potrebbe essere mai non so L'arma del cecchino Che dovrà essere inserito nella mappa di The Terminal se non sbaglio O per The Terminal oppure era il faro Lighthouse se non sbaglio Dovrà avere un boss che era un PMC Che si è dato alla macchia se non sbaglio Avrà un fucile da cecchino F-88 Austria F-90 Export Version Questo 9x19 Parabellum 5,96 nato Confermato durante il DevBlog numero 4 Cos'è un Bullpop questo qua? 9x19 Balordo F-90 Export Version Tipo il fratello del P-90 Questo è uno delle armi più ambite da sempre In tutti i tempi Bisogna vedere come uscirà fuori Monta 5,56 7,62x51 Confermata DevBlog numero 4 Ci sono tre file sonori Nelle cartelle di gioco Aggiuntano a 12.10 Secondo Nikita Quindi potrebbe essere nella prossima patch Inserito L'FN Scar finalmente Sia la L che la H Ragazzi Potremmo avere finalmente Una delle armi più ricercate Anche se il ratio di fuoco Fa un po' caccare Rispetto alle altre armi Akler & Koch G-28 7,62x51 Un'arma decisamente strana Confermata nel numero 11 Tolkien Tarkov Oh c'è il G-3 Quest'arma qua è amata e odiata In tutti gli FPS Per via del ratio di fuoco Confermata nel numero 4 Di Tolkien Tarkov Il G-36 La prima arma che chiunque acquista Quando va a fare Guerra Simulata Quindi non so Quanto potrà essere amata Monta 5,56 Confermata nel Tolkien Tarkov DevBlog numero 4 Ok L'HK 4,1,7 Quindi Abbiamo cos'è Il fratello Il fratello di 4,16 Questo ragazzi Io non lo conosco Ditemi se è buono Probabilmente sì C'ha un numero dopo il 4,16 Quindi Sarà più buono Non lo so Cosa voglia dire No più che altro Monta i 7,62 Quindi a me farebbe Decisamente paura Vedere Un HK Con i 7,62 Anche se Sappiamo ora Tra nerf vari eccetera Che 9,95 Sono sempre Il non plus ultra Del proiettile Sutt'arco Confermato nel Tolkien Tarkov Numero 6 MP5,10 10 mm auto Perché Ah Questo qua Tipo il caricatore Che è diverso Cazzo Sapete che questo Non ho mai sentito parlare St'arma Kalashnikov SR1 5,56 45 Confermato su Instagram Knights Armament Company PDW Che sembra Ah i 300 blackout 6x35 Questa non l'ho mai vista Ne conosco Several sound Ok Molti suoni sono presenti Nel cartello di gioco Questi suoni sono identici C'è il CAC PDW In Contract Wars Confermato da una foto Instagram Ricordiamo che molte di queste armi In realtà esistono già su Contract Wars Che è il gioco gemello a Tarkov E che attualmente invece Diciamo rivive dentro Hyrat Ops Hyrat Ops presenta addirittura Delle porzioni di mappa Che ora abbiamo su Woods Cioè scusate In Contract Wars Sono presenti Le porzioni di mappa Che abbiamo su Woods Nella nuova area Ci sono pezzi di mappa Di Contract Wars Quindi guardando le mappe Di anche Lighthouse Probabilmente avremo Quella stessa mappa Dentro Una porzione di Lighthouse In Tarkov KSVK a 12.7 Un fucileo a cerchino Condi controcazzi 108 mm Presente in un report Di YouTube Channel Battlestate Games Quindi questo mi sembra Una roba bella violenta Eccolo qua L'M16A4 Quindi io quello Che prima vedevo qua Come Beulff E un'altra arma ancora Miche a .50 Ne fa male M16A4 Confermato da Tolkien Tarkov DevBlog numero 4 5 più 56 Per 45 Che se non sbaglio Ha il colpo singolo E il Burst Fire Se non sbaglio L'M16 No non so Beical MP43 Presentato nell'alpha Rimosso nel codice Perché Ah per il reloading For reloading Is reworked Ok Prendete quest'arma La potete vedere Nel primissimo trailer Di lancio Di Tarkov Nel momento in cui Lui sta scappando Su factory Da gli scav Che stanno arrivando Annunciati da una sirena Imbraccia quest'arma Che è La doppietta Quanto pare È stata tolta dal gioco Perché Devono rifare Le animazioni di ricarica Ma secondo me È finita un po' Il dimenticatoio L'MR18 Che monta RUG per 70 O 410 Goge Confermato Nel Tarkov TV Numero 1 Quindi non se ne Parla già più MR233 Pensato in un report Su YouTube E questo invece È stato diserato All'interno anche Di foto Su Instagram Confermato In un'arte Ufficiale Di Eiger Modello Modello svelato Possibile 0.12 Ma non è mai arrivato Magari Nella .12 .10 Potremmo Vederlo SVLK 14S Sumrak 408 Shytak 338 Lapua Un altro fucile A cecchino Che controcazzi E 300 Winchester Confermato In un'intervista Con Nikita Bujano E Dimitri Goblin Puchkov Il Groza Questa è l'arma Della sfiga Io ogni volta Che la raccoglievo Su Ringo Velezio Morivo Quindi io odio Il Groza Lo odio Con tutto me stesso Non lo imprenderò Mai Solo te la trovo In strada E ho L'accetta In mano PKM Questo hanno Ne hanno parlato Questa è tutta quella Che dovrebbe essere Un'aggiunta di varie Light Machine All'interno del gioco Quella prima è stata presentata Appunto con le RPK Che però non sa tanto Di Light Machine A noi vogliamo Quelle proprio Con la cassettina Non vogliamo Il caricatore classico Non vogliamo La cassetta Con la mano Che infila Proprio Le cartucce All'interno Che chiude La parte alta Del fucile Quindi Confermato Ma non rilevato Rivelato Attenzione Il PKM Monta a 7.62 Quindi farà Decisamente paura Vedere una roba del genere Così come il PKP Pecheneg Questo è proprio I peschmerga Capito Quindi comunque Questa roba qua Il PP-19 Bison Strana arma La vediamo in tutti i giochi Ma infatti su Tarkov Ancora non l'abbiamo vista Abbiamo solo il PP-19 Monta 380 ACP 9x18 Makaro 9x19 Parabellum 7.62 Tokarev Quindi abbiamo un'arma Abbastanza versatile In varie versioni Con il suo caricatore Che contiene un sacco di proiettili L'RPD Eccolo qua Conformato su Reddit In un video Instagram In un early development È stato mostrato L'RPD È praticamente La machine gun Per eccellenza Di qualsiasi gioco Che fare con la Russia Quindi è strano Già che non ci sia Ci vedrei benissimo Kill Con una di queste in mano RPK Inserito L'RPK È arrivato Comunque qui in questo caso Però abbiamo la variante 7.62 5.45 Già ce l'abbiamo Se non sbaglio Però questa è la versione 74M Però già abbiamo un RPK Quindi sappiamo di cosa stiamo parlando Saiga Mark 5 Vi rigola 45 Fantastico Saiga I nostri praticamente Hpni Confermato Instagram E Tolkien Tarkov Del blog numero 11 Lo Scorpion Questo ce l'aveva anche Scorpion Predator 2 Ricordiamo Un Uzi Tanto amato E la possibilità appunto Di aprire il calcio Richiuderlo Per essere mini E confermato su Reddit Monta proiettili abbastanza Briuzzi Come 9x18 Makarov Quindi un concorrente Del Cadr Scusate Poi abbiamo SigMPX .45 CP Custom Prediente abbiamo L'MPX Però che monta 45 Gli M45 Non sono tanto amati Su Tarkov Ad esempio Già nella variante Di Chris Vector È preferibile Il 9x19 Rispetto al .45 L'OMP Viene praticamente Scansato Come la peste Il SR2 Veresk Che non conosco 9x21 Gairusa Giurza Beh Prediente in un report Il canale YouTube Il Pato State Game SR9 Vicar Questo è il Vicar Che sembra Praticamente Palesemente Una Sval Con un altro calcio 9x39 Infatti Lo Stair AUG L'AUG È molto amato Da molti E praticamente Se la batte Con gli MDR No? Sì MDR Si chiama Oh cazzo Non mi ricordo più Vabbè Comunque L'RFB E compagnia Però in versione 556 Da quando abbiamo La versione Che monta Gli M61 Gli M80 Di certo Non viene tanto Scagato Quindi stiamo a vedere Un po' Come sarà Confermato Per ben Due volte SV18 Che monterà 12.7 Per 99 Fucile a cecchino De Cristo Confermato Su Instagram Poi abbiamo Vabbè L'SVD Che è stato inserito L'SVDM Che no L'SVD Cioè in realtà Noi abbiamo Una variante L'SVD Attenzione Queste sono tutte Le altre varianti SVDM E K Confermate In Tolkien Tarkov Variano Delle variazioni Tra cui Vabbè Proiettili 7.62 Tra cui Il 9.3 Per 64 Ho mai vista Sta roba SVT40 Un altro fucile Da Mi ricorda Il Mosin Cos'è A colpo singolo Tipo un miscuglio Come se il Mosin E il SKS Avessero fatto Un figlio 7.62 Per 54 Confermato Ma non è ancora Stato rivelato Vepr 12 Ah La famiglia Vepr Veprsock 94 Presentati entrambi In report Di Youtube Poi il VKS Vishlop Che Cazzo Super Silenziato De Cristo 12.7 Per 55 Confermate Un Tolkien Tarkov Numero 4 Vp111 Vabbè Vp ormai Vi ho imparato a temerli Vp o 156 Versione praticamente civile E vp o 302 Queste sono Tre armi E tra cui questa Che abbiamo già Il 101 Noi se non sbaglio Queste montano tutte 7.62 Beh Queste 7.62 Per 54 Gli altri 7.62 Per 39 E punto 36 TKM Quindi ok Fa parte Della mitica famiglia Vp o Pertanto Altre cose Che invece Sono state Confermate Come armi Secondarie La Chiapparino Abbiamo anche Da un bel po' Che viene Tiserata In 4 versioni E' veramente Devastante 357 Magnum Quindi fa parte Di quella famiglia Di armi Che ancora non Abbiamo visto Su Tarkov Cioè le armi A tamburo Dobbiamo vedere Un po' Come funzioneranno E' stata confermata E il modello Praticamente finito Sta là Chissà quando Inseriranno Sta roba Hanno presentato Di recente Appunto Anche delle pistole Che hanno Delle varianti Intercambiabili Con le Glock CZ 75 CZ P09 E a Tor Questo farà parte Praticamente Delle armi esotiche .500 S&W Magnum 223 Remington 308 Winchester .44 Manio Che è confermato Un radio audio podcast GSH 18 Glock 19 Eclarencock USP Carina L'USP La Desert Eagle Mamma mia raga Come si fanno Una verdiente dorata Sono proprio Dei tamari Dei buzzurri Jericho 941 Lebedev PL 15 Questa qua Forse è una Di quelle tiserate Non ricordo già più Vedete un report Su YouTube channel E' anche confermata Su Instagram PMM Quanto sei brutta Un'altra macro Insomma Come se già Non bastassero PSS Monta 7.62 Per 42 SP4 Ok Smith & Wesson MNP Carina Questa mi ricorda Appunto La FN 1.45 CP 9x19 Ok Questo è un classicone Lanciatori Questo farà Il piacere di tanto Ricordiamo che i lanciatori Vennero rimossi I sottocanna Parlo Già nell'alpha Di Tarkov Perché erano Rottissimi Quindi Rivedremo probabilmente I lanciatori Quelli da innestare Nel sottocanna Chissà Quando GP25 GP30M GP34 Che sono Dei modelli Già appunto Esistenti Vedete Vedete qua GP34 Temporaneamente Rimosso per bug Era uno dei primissimi Ora Lo potete anche Addirittura vedere Nella schermata Di modifica delle armi C'è UBGL Quello è Under Barrel Granade Lancer Quindi C'è ancora lo spazio Ma è stato tolto di corsa Non è stato mai patchato M203 M203 Confermato Torkin Tarkov Il Milcore MGL Raga Questo Ho un terrore Fottuto Di sta arma L'RG6 Perché Landmark Quando arrivano Endgame Sapete cosa succede Sapete benissimo RPG7 Vabbè Questo Immagini Trigger Grip Postata sul Twitter Di BSG Lancia Missili Chissà che cazzo Succederà Con l'avvento Di sta roba Questo è proprio Da Da Norberto In fraschette Comunque Lancia Armi da lancio Quindi abbiamo Granate da lancio Questa qua è una smoke Granade che era stata annunciata Perché la gente si è lamentata Molto dell'inutilità Delle attuali Granate Fumogene Quindi hanno chiesto Granate più efficaci Questa a quanto pare Dovrebbe essere una granata Che nell'istante In cui la lancia Fa già un fumo De Cristo Può essere una M14 incendiaria O la M18 smoke Regione offensive grenade Regione defensive grenade Entrambe con UDZS Dual action fuse Quindi Granata a impatto Questa Potrebbe essere Molto fastidiosa Soprattutto per coloro Che sono talmente Abituati a Tarkov Che sanno benissimo Dove potrebbe stare Il nemico Quindi Un lancio preventivo Di granata Che so Verso la Market room Per stanare Già la persona Che sta lì Piccando Poi abbiamo Granate Le mine Le mine Ragazzi Io non ho idea Di come Faremo Di ciò Confermate Mine di prossimità Wiremine Scusate Antipersonal Varianti di antipersonal Se ne sono 1,2,3 Le claymore Attenzione Anche le claymore Sono state Tiserate Quindi preparatevi Alle bestemmie Più forti Che mai Il Podmos Morta In realtà Entrambi Questi due Li possiamo vedere Già su Reserve Li vediamo già su Reserve Ma sono inutilizzabili Abbiamo sia il Mortaio Che l'antitank Gun Quindi Entrambi sono visibili Ma non possiamo Utilizzarli ancora Si era detto Che dovranno essere Utilizzabili A 12,7 Insieme Alle mitra elettrici La postazione E il lancio a granate Ma non sono mai arrivati Cosa abbiamo poi? Armi non confermate Queste sono semplicemente Armi presenti Nel predecessore di Tarkov Cioè Contract Wars Che riguardano appunto Una valanga di armi Inserite nel gioco Perché il gioco Già all'epoca Per l'appunto Presentava Tantissime Varianti di armi In generale Quindi Questo non sapremo mai Se avranno inserite o meno Però ecco Potete farvi un'idea Leggendo anche i nomi Abbiamo ad esempio Lo spas Il franchi spas Che è un'arma Un'arma amatissima Dal pubblico L'MDR-C Questo qua Lo stesso è amato Poi cosa abbiamo? Il Magpul PDR Armi molto esotiche Molto strane Questo Il Kel-Tec È una sorta di fucile a pompa Se non sbaglio Non ricordo male Quindi abbiamo ecco Un po' di cose strane Così come anche le armi secondarie Presenti nel predecessore Ma non sappiamo su Tarkov Sarei molto interessante Di vedere Armi come La 40 Cioè La Smith & Wesson Modelo 629 Che monta 44 magnum O la Raging Juge Che sono comunque sia Delle armi spettacolari Qua abbiamo ad esempio La Colt Python Che è un'arma iconica Gli Uzi Il mini Uzi Questo potrebbe essere Proprio sostituire Qualsiasi pistola E poi abbiamo L'RPG-26 Uglen Come lanciatore Portato praticamente In un artwork Lo vediamo tutti Nell'artwork Dei Bear Che è il volto Anche lo stesso Del protagonista Di Sonsovana Che non capisco Perché non l'abbiano Ancora Denunciati Comunque E a tutto questo Comunque la gente Chiede a gran voce Un'arma Una singola Fottuta arma Che non è stata Ancora confermata Né smentita Che è la K-107 Un'arma Che praticamente Non ha rinculo Cioè abbiamo una K C'è una K Senza rinculo Praticamente Il fratello del Vettor Che Questo è La tipologia Di risposta Dell'arma Al rinculo Ecco insomma La gente Ha le idee chiare Su che cosa vuole Ma Vediamo a vedere un po' Intanto Ragazzi Io vi ringrazio Per il vostro tempo Ditemi i vostri pareri Cosa ne pensate Di queste armi Questa prospettiva Futura Per Targo Io vi invito Come se siete iscriviti al canale A attivare la campanella Per non perdervi I prossimi caricamenti E per tutte le informazioni E per il supporto Trovate tutto quello Che vi serve Qua in descrizione Grazie ancora Per il vostro tempo Signori A noi Ci vediamo sul campo Per il vostro tempo Per il vostro tempo Io vi ringrazio Per il vostro tempo